Ok, buongiorno, eccoci qua di nuovo, YouTube perché non ha capito un tube, parliamo di disabilità intellettiva. Allora, anche qui c'è poco da essere elastici o da avere approcci personali. Se sto affrontando un quesito che parla appunto di disabilità intellettiva, ve lo rileggo, la disabilità intellettiva e le sue caratteristiche, mi fermo qui perché questa è la prima parte abbastanza consistente del quesito, io devo partire da una definizione di che cos'è una disabilità intellettiva. Ora, o lo faccio direttamente, e questo è uno delle possibilità, o come in una delle schede che vi avevo dato, prima di definire la disabilità intellettiva faccio un cosiddetto cappello, una introduzione, in cui definisco e parlo di che cos'è in generale, cosa si ritiene essere l'intelligenza. Quindi perché lo faccio in un certo senso per poi andare più snello nel momento in cui definisco una disabilità intellettiva. E' ovvio che se definisco e descrivo l'intelligenza in un certo modo, la disabilità intellettiva si riferirà ad una carenza nelle funzioni e nelle descrizioni delle funzioni che ho appena dato. Quindi andiamo al... diciamo iniziamo con la prima delle possibilità, ovvero descrivere la disabilità intellettiva partendo da una descrizione di che cos'è l'intelligenza. Appunto, l'intelligenza è, se leggo dalla scheda sulla disabilità intellettiva, l'intelligenza è la capacità di risolvere problemi e superare gli ostacoli. Ora, questa capacità a sua volta non è... è stata oggetto di numerosi studi in psicologia perché si può definire secondo diversi criteri, secondo diversi approcci. Non è una cosa automatica, non è come misurare la pressione o come fare un'analisi del sangue in cui si contano i globuli rossi. Per cui, anche qui, vengono usati dei modelli per descrivere e per rendere conto di quello che è l'intelligenza. In ogni caso, appunto, c'è un certo accordo su definire, appunto, l'intelligenza in parte come un qualcosa che è quantitativamente misurabile, dove? Nell'ambito che più di tutti ha a che fare con i numeri e con la quantità. Quindi la matematica e la logica. Il cosiddetto QI, quoziente intellettivo, viene misurato per lo più sulla base di quesiti di tipo matematico e logico-matematico. D'accordo? Ora, cosa succede? Nella storia stessa della psicologia si è ritenuto che questo tipo di approccio, per esempio, non desse ragione di altri tipi di intelligenza presenti nel mondo. Per cui intelligenza di tipo musicale, intelligenza di tipo naturalistico, intelligenza di tipo cinestesico, quindi i grandi ballerini, i grandi sportivi. Quindi, in questo senso, possiamo aggiungere il fatto che esistono parti e zone relative all'intelligenza e ai suoi prodotti, che sono più difficilmente quantificabili. In ogni caso, esistono e vengono riconosciuti dalla realtà. Questo ancora per dire che l'intelligenza è un concetto molto sfumato e che, come abbiamo detto, in molti altri campi della psicologia è caratterizzato dal modello con il quale si studia. La terza, il terzo risvolto, il terzo ambito secondo il quale viene valutata l'intelligenza è sicuramente quello quotidiano, ovvero, appunto, le capacità di assumersi delle responsabilità, di interagire con gli altri e quindi di comprendere le regole. E, soprattutto, ricordiamoci, una cosa che sembrerebbe scontata per tutti, ma sappiamo che non è così, svolgere i compiti quotidiani legati all'autonomia personale. Quindi, le azioni che vanno da lavarsi i denti, al vestirsi, all'uscire di casa da soli, che ne so, per andare a fare una spesa al supermercato. Ora, passando alla maniera in cui viene definita la disabilità intellettuale, ci accorgeremo che è anche una conseguenza di come abbiamo descritto l'intelligenza. Nel vostro libro la definisce in maniera sintetica come un deficit nelle funzioni intellettive e una compromissione delle capacità di adattamento. Quindi, ha usato la parte intellettiva, diciamo quantitativa e qualitativa, insieme, per definirlo, e ha definito poi come seconda zona quella del quotidiano. Se ci ricordiamo, in uno dei video che sono segnalati nella scheda, la psicologa Laura Pirrotta, nel suo video, ha fatto riferimento in maniera precisa a queste due dimensioni. appunto, soprattutto, ha dato un'informazione importante che quasi nessuna di voi si è ricordata di riportare, che rendeva più agevole la descrizione dei livelli di gravità della disabilità intellettiva. Molte di voi hanno studiato quasi a memoria la pagina 263, lo schimino, che parlava dei livelli di gravità della disabilità intellettiva, trascurando la descrizione di che cos'è l'intelligenza e delle parti più importanti, le parti che ci danno e che ci orientano in questo mondo, hanno dato una descrizione dettagliata di questo, ma si sono dimenticate di dire la cosa più importante. La cosa più importante è molto semplice. Di queste due componenti, quindi quella quotidiana è legata all'autonomia personale e quella relativa alla parte intellettiva unendosi, quindi, il peso di queste due parti, il diverso peso, determinerà il livello di gravità. Che cosa avevamo detto? Che le capacità intellettive sono, le difficoltà nelle capacità e nello svolgere i compiti intellettivi, sono quelle che rimangono invariate nel corso della vita. Cioè non c'è una possibilità di riempire questo gap, di superarlo. Rispetto alla media degli individui con la stessa età, una persona con disabilità intellettiva avrà sempre delle difficoltà nello svolgere dei compiti di natura intellettuale. Quindi questa parte rimane fissa, questa disabilità non migliora nel corso della vita. Cosa è che può migliorare? Invece, la capacità di svolgere i compiti quotidiani, la capacità di assumersi delle responsabilità e comprendere e rispettare delle regole. Allora, questa capacità, che può essere implementata, che può essere migliorata nel corso della vita e grazie all'educazione, all'intervento precoce, questa capacità, il livello di questa capacità, determinerà, a livello generale, il livello di disabilità. Quindi da questa semplice caratterizzazione delle due dimensioni, consegue anche il livello di gravità. Il livello meno grave sarà quello in cui un individuo sarà autonomo, riuscirà a svolgere tutte le funzioni una persona normale. Vi ho fatto l'esempio del ragazzo che lavora nella nostra scuola, per cui svolge un lavoro, sicuramente si veste, viene a scuola da solo, quindi è autonomo, certo non potrà seguire gli esercizi di matematica o avrà difficoltà a comprendere le lezioni teoriche di un'altra materia, le definizioni del libro di psicologia. Ciò non toglie che avrà comunque delle capacità su quel piano. Quindi, ripeto, questo determina il livello di gravità. La persona più grave sarà quella che, oltre ad avere la disabilità intellettiva, non sarà in grado di essere autonoma, avrà bisogno di un'assistenza costante nel corso della sua vita. Ok, questa era la prima parte. Sulle cause della disabilità, anche qui si può andare veloci, sono sempre le stesse, le cause dipendono appunto dal momento nel quale queste patologie che determinano appunto la disabilità sono sopraggiunte. Ricordiamoci anche però che una parte considerevole, quindi abbiamo detto il 30% di disabilità intellettiva, per queste non viene individuata la causa scatenante. D'accordo? Quindi, oltre questo, andiamo alla sintomatologia delle disabilità intellettive. Qui, in questo caso, ci descrive in particolare che cosa sul piano intellettivo è stato riscontrato essere carente. Quindi, anche qui, dipende dalla modalità in cui andiamo a verificare queste carenze. Soprattutto, si è riscontrata concretezza del pensiero, rigidità, qui sto leggendo appunto a pagina 264 del vostro libro, una certa caratteristica del processo percettivo, della memoria, del linguaggio, si parla inoltre di disprassia. Questa è appunto una parte mnemonica che è di sicuro da studiare. Per quello che riguarda appunto l'ambito sociale e della personalità, ovviamente c'è un piccolo riferimento, l'avevamo fatto anche in classe, al fatto che situazioni di un certo tipo possono provocare e provocano di solito un certo isolamento sociale. L'isolamento sociale è una condizione, diciamo, che tende dal punto di vista psichico e della personalità a creare spesso, ripeto, delle situazioni al confine con lo psichiatrico. Quindi, qui parla appunto di ansia, sintomi depressivi che a loro volta scatenano e possono innescare comportamenti compulsivi, quindi il classico comportamento compulsivo è accertarsi 20 volte prima di uscire di aver chiuso il gas, di aver chiuso la porta di casa, quindi sono degli atteggiamenti che scavalcano la razionalità con una forte componente emotiva. Quindi, chiusura tendenziale isolamento, qui è pagina 265 e ci siamo. Non ritengo di fare un particolare approfondimento per quello che riguarda i comportamenti di problema, perché più o meno ho visto che sono uno dei pochi nuclei teorici che sono stati compresi. Quindi, appunto, è una situazione soprattutto il comportamento si inserisce e il problema deriva e si innesca nella, si innesta, scusatemi, nella relazione e soprattutto quindi con i pari, con le persone che abitano l'ambiente sociale, dai familiari agli insegnanti alle altre figure, si possono manifestare, quindi qui abbiamo l'elenco pagina 266 dalle aggressioni fisiche, stereotipie, eccetera, eccetera. Le reazioni è importante, abbiamo detto la figura dell'operatore sociale, cosa deve stare attento, deve stare attento a non sopravvalutarsi, eccetera, eccetera. Sindrome di Down, abbiamo detto, molto conosciuta, è una tipologia diciamo ben nota di disabilità intellettiva la cui origine è genetica, quindi un'alterazione cromosomica, ma qui sulla sindrome di Down è bene conoscere alcune caratteristiche generali senza entrare troppo nel dettaglio. mi raccomando per cortesia le definizioni, cioè in ogni argomento ci sono due o tre terminologie, due o tre espressioni da imparare, non improvvisate, nel momento dello studio non dite ah sì, ho capito che cosa significa, poi quando sarò alla verifica e dovrò rispondere sì, bene o male recupero il concetto e cerco di descriverlo lì nel momento, no perché da una parte fareste meno fatica ad impegnarvi a memorizzare quel concetto e quell'espressione che vi risolve il problema, se devo definire la disabilità intellettiva è meglio che l'impari bene e me la fissi la definizione e i verbi, i termini, il lessico che costituiscono questa definizione, poi nel momento in cui magari devo descrivere il comportamento problema, certo che non devo ripetere per forza pari pari tutte le espressioni del libro, lì ho capito che cos'è un atteggiamento aggressivo, un atteggiamento violento, lì posso fare degli esempi e anche inventarli sul momento, però evitate di recuperare le definizioni o di cercare di recuperare delle parti appunto teoriche con linguaggio di tutti i giorni, quindi facendo delle parafrasi scrivendo in quella che poteva essere riassunte in due righe scrivete 12 righe in cui continuate a utilizzare parole inappropriate in cui i verbi fanno pensare a cose completamente diverse e fallite completamente il compito. Finisco ricordandovi che a proposito di disabilità intellettiva io vi avevo fatto visionare un filmato il filmato faceva parte del materiale di studio e così la scheda appunto ha legata in cui ci sono appunto i video della pirotta in cui vengono classificate le disabilità e le componenti della disabilità ancora e soprattutto una parte molto importante che vi ho chiesto di approfondire è la parte dell'intervento quindi in questo caso appunto avevamo la neuropsichiatra che parla di fare riferimento all'intervento precoce in quel caso c'erano anche delle immagini c'erano degli esempi di intervento integrato materiale che è stato assente nel nel 90% delle verifiche buon lavoro arrivederci all'intervento